Musica Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg di Venezia. Apriamo questa edizione parlando del Covid-19, perché a causa dell'aumento del numero dei contagi, l'Ustria ha fatto appello alle 31 case di riposo del territorio, affinché quest'ultime spieghino ai loro ospiti e ai familiari la necessità della quarta dose. Ad oggi solo il 28,8% degli ospiti delle RSA ha consentito alla somministrazione della seconda dose booster. L'Ustria ha sottolineato l'importanza della vaccinazione riportando lo studio del New England Journal Medicine, secondo cui la somministrazione della terza dose ha ridotto il rischio di ospedalizzazione del 72% e di morte del 76%. Per la città di Chioggia, ieri si è aperto un nuovo capitolo. La nave da crociera Viking Sky è approdata all'isola dei Saloni, con i suoi circa 800 passeggeri che potranno visitare Chioggia ed accedere alle sue proposte culturali ed artistiche. Lo Scallo Clodiense, al pari dei porti di Barcellona, Civitavecchia e Olimpia-Pireo, è stato scelto dalla compagnia di navigazione quale Home Port per l'itinerario dell'Adriatico Orientale. La nave sarà ormeggiata fino alle ore 14 domenica 19 giugno, per poi fare rotta verso Spalato, per aggiungere i porti Dubrovni, Cotor, Corfu e giungere a Olimpia, dove verranno sbarcati tutti i passeggeri. Ad accogliere l'arrivo della Viking Sky erano presenti tutte le istituzioni, il sindaco Mauro Armelao, il presidente dell'autorità portuale Fulviolino di Blasio, il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia Dario Riccobene e il vicepresidente Viking Italia Enrico Prunotto. Al comandante della nave Frederick Nilsson e ai passeggeri è stata dedicata l'esibizione musicale degli artisti del Palio della Marciliana. L'autorizzazione per l'approdo è arrivato dall'autorità portuale su richiesta di Venezia Terminal Passeggeri, affinché Chioggia potesse svolgere in via temporanea le operazioni di sbarco e imbarco passeggeri. Ricordiamo che in tema di croceristica, mercoledì scorso il Consiglio dei Ministri aveva approvato un decreto legge che assegnava 1,3 milioni di euro per l'adeguamento funzionale delle banchine di Trieste e Monfalcone e un milione per quella dell'isola dei saloni di Chioggia. Il risultato raggiunto dalla città di Chioggia dimostra l'efficacia della collaborazione tra l'autorità portuale e tutti gli enti e istituzioni preposti, nonché un indispensabile contributo volto al rilancio della portualità clodiense, elemento centrale per lo sviluppo del territorio e del suo tessuto economico e commerciale. Cambiamo argomento e parliamo del caro carburante perché, mentre si è in attesa che l'Agenzia delle Entrate permetta alle imprese di autotrasporto di recuperare parte delle accise, anche i cosiddetti professionisti di strada, ossia taxisti, bus operator, agenti di commercio, sono in difficoltà e rischiano il fermo. Inoltre, in Italia, ad aggiungersi al caro carburante, questi soggetti devono considerare il costo dei pedaggi autostradali, che in Italia sono tra i più alti d'Europa. Secondo la CGA di Mestre, è necessario introdurre un tetto temporaneo al prezzo del carburante, nonché il rinnovo del decreto legge taglie accise, che scade il prossimo 8 luglio. Sentiamo. A causa del caro carburante, tassisti, bus operator, autonoleggiatori, agenti di commercio, piccoli trasportatori sono allo stremo e rischiano di dover lasciare il proprio automezzo in posteggio o in piazzale. Il governo intervenga subito e introduca un tetto al prezzo della benzina e del diesel, almeno fino alla fine dell'estate. Non possiamo aspettare l'Europa, che come con il gas, non sembra interessata a introdurre alcuna mitigazione al caro in regia. Ieri, poco dopo le 16, un auto articolato si è capovolto in A57 tangenziale di Mestre, tra lo svincolo di Mirano-Dolo e il bivio con il passante di Mestre in direzione Milano. Il mezzo, che trasportava una bobina di acciaio, si è capovolto concludendo la sua corsa di traverso sulla carreggiata, con la cabina di guida al di fuori della sede stradale. Forse la causa dell'incidente è da attribuire al movimento del carico. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un autogru e la polizia stradale, oltre al suo M118 che ha prestato assistenza al conducente ferito. Ieri pomeriggio a Cafforsetti, gli assessori Michele Zuini e Simone Venturini hanno ricevuto e premiato con un gagliardetto del comune di Venezia, Sebastiano Caldara, il bagnino di 21 anni che il 6 giugno scorso agli alberoni ha salvato la vita ad una giovane donna che stava affogando in mare. Il ragazzo, quando visto la signora in pericolo, non aveva esitato a prestare immediato soccorso. L'ha portata a riva e ha praticato il massaggio cardiaco. Dopo molti minuti di rianimazione, la signora ha ripreso lentamente conoscenza ed è stata affidata alle cure del 118. Venezia ritorna ad essere palcoscenico ideale da un punto di vista sportivo ed estetico per le vele d'epoca, rinforzando e ribadendo il legame tra la città e il mare. Questa mattina nella sala grande della giunta di Cafforsetti, sede del comune di Venezia, è stata presentata la nona edizione del trofeo Principato di Monaco, le vele d'epoca in Laguna. Il trofeo si rivolge alle imbarcazioni classiche, con due regate da disputare sabato 25 e domenica 26 giugno. Grande novità di quest'anno è la partecipazione di due dei 4 15 metri stazza internazionale esistenti al mondo, il Tuiga, ammiraglia dello Yacht Club di Monaco e la sua gemella Marisca, già presente lo scorso anno, al trofeo. Alle regate previste dal programma si aggiungerà domenica pomeriggio uno spettacolare match race e le vedrà confrontarsi nel bacino di San Marco. Le barche saranno ormeggiate all'interno dell'arsenale, dove si svolgeranno le premiazioni. La città di Venezia continua così ad ospitare eventi ad alto livello e a mostrarsi al mondo come un punto di riferimento di fatto di nautica e di sostenibilità. Ieri, nel chiostro del convento di San Francesco della Vigna Castello, si è tenuta la mostra di pittura che conclude il progetto, che ha avuto inizio nel 2020, Le Pietre Pallanti di Venezia. Questa iniziativa aveva lo scopo di favorire la socializzazione di bambini, ragazzi e giovani con disturbi dello spettro autistico e i propri coetanei. L'arte è stata occasione di incontro e condivisione attraverso due laboratori creativi, uno di disegno e pittura, l'altro video animazione e teatro. Le opere dei partecipanti al laboratorio di pittura hanno restituito ai cittadini le ricchezze architettoniche della città attraverso gli occhi dei giovani artisti. Nelle rappresentazioni, animali e esseri mitologici, sculture di draghi e di personaggi erranti, visti su alcuni patere, osservate dai giovani artisti durante le uscite comuni. Come gli stessi autori hanno spiegato, le pietre sono parlanti, perché è come se raccontassero qualcosa di sé a chi le guarda. La mostra sarà visitabile fino a domani, 18 giugno. Infine lo sport, l'Umana Reier ha comunicato di aver siglato con la cestista Matilde Villa un accordo pluriennale. Villa, playmaker alta 172 cm, è cresciuta nelle giovanili di Costa Masnaga, con cui ha esordito in prima squadra in A1. Ad appena 14 anni e l'anno successivo ha totalizzato 17 presenze, sempre nella massima serie, a 8,2 punti, 2,4 rimbalzi e 1,7 assist di media per gara. Matilde Villa è inoltre vincitrice dello scudetto Under-19 femminile, con Costa Masnaga, che ha superato in finale proprio le Oro Granata. Con questa notizia è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni.